Prima rubano in un campo sportivo e poi con la refurtiva costruiscono un casottino in legno a pochi metri di distanza. E' quanto successo a Sant'Orso di Fano, dove da alcuni mesi i gnoti mettono a segno continui furti nelle strutture pubbliche gestite dall'associazione Fano Rugby in via Magellano. L'ultimo colpo lo scorso fine settimana, quando hanno scardinato e poi gettato a terra alcune porte dei capanni nel campo sportivo. Ad accorgersene il più delle volte è stata la persona che si occupa delle pulizie, ma che non può fare altro che verificare e avvertire la società. Si pensa che responsabili siano alcuni ragazzini che abitano nel quartiere e che passino in questo modo parte del loro tempo libero. Ormai, da come ci hanno raccontato, qui è successo di tutto. Oltre a mettere a soquadro le stanze, i vandali hanno rotto vetri, porte e lucchetti per accedere agli spogliatoi e negli altri capanni, con lo scopo di portare via cose di poco valore, come pezzi di legno, arredi, scope, palloni, interruttori della luce e attrezzi da lavoro. Materiali che poi hanno portato in questo saluttino realizzato sopra i binari della vecchia ferrovia. Dentro ci sono delle panche e un divano, all'esterno invece un tappeto di spazzatura, bottiglie di plastica, bibite, un carrello della spesa, cartacce, cartoni, pezzi di legno e ferramenta. Per una società sportiva sarà oneroso sistemare i danni subiti o pensare ad un sistema di videosorveglianza. Certo è che atti incivili come questi vanno a discapito non solo dell'associazione stessa, ma anche di una struttura pubblica a disposizione dell'intera città. Per una società sportiva è una struttura pubblica a disposizione dell'intera città.